carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato ai nuovissimi sistemiamo un po meglio il microfono e ci siamo ci aggiorniamo dalla scorsa puntata e abbiamo iniziato la trattazione un pochino più approfondita del dell'inferno abbiamo finito la lunga e dettagliata rassegna biblica necessaria perché purtroppo di questi tempi ci tocca vivere in tempi in cui ciò che era ovvio adesso deve avere sostegni dimostrazioni di ogni genere perché ci è toccato da campare in questi tempi e non abbiamo ancora finito perché ci siamo lasciati la volta scorsa ricorderete che sta seguendo che abbiamo cominciato a vedere i passi del densinger quindi i documenti quindi i pronunciamenti autorevoli che affermano seriamente e risolutamente resistenza dell'inferno continuiamo evidentemente questa lunga rassegna da dove ci eravamo fermati perché abbiamo ancora tre brani del del magistero poi faremo una scorsa a un altro testo che uscì appunto in un momento in cui storicamente negli anni 70 cominciavano le prime corbellerie ecco sulla non esistenza dell'inferno oppure che era vuoto oppure che si poteva sperare che era vuoto oppure che i diavoli non esistono di tutto in quel periodo a milano dicono di ogni e poi dovremo fare un ulteriore passaggio dentro alcuni punti del catechismo della chiesa cattolica e prima di passare poi ad un ritorno su quello che abbiamo visto e grazie alla porta all'insegnamento di san tommaso da quino che commentando passi biblici e non solo ha cercato di darci un'idea di quello che è l'inferno ecco io non lo so se forse sarà il caso magari come appendice anche se questo è un corso diciamo così catechetico quindi non è un corso spiritual devozionale però sarà forse anche magari utile dare un'occhiata a qualche cosa che starò detto per esempio da santa paustina riguardo l'esistenza dell'inferno santa paustina covasca che ci è andata all'inferno anche perché molte delle cose che lei ha scritto sono delle glosse a quello che che andremo vedendo va bene riprendiamo la trattazione io riprendo il mio super danzinger perché il prossimo testo magisteriale che dobbiamo rapidamente scorrere è tratto da un'importantissima costituzione papale di benedetto dodicesimo che si chiama la benedittus Deus anche qui ritroveremo i soliti pattern se vogliamo già già visti e ulteriormente ribaditi nella parte conclusiva di questa costituzione il papa dice noi inoltre definiamo definimus in latino quindi questo è un termine abbastanza forte quindi una verità di fede definita che secondo la generale disposizione di dio le anime che muoiono in peccato mortale attuale subito dopo la morte discendono all'inferno dove sono tormentati con supplizi infernali e che tuttavia nel giorno del giudizio tutti gli uomini con i loro corpi compariranno davanti al tribunale di cristo per rendere ragione delle loro azioni per ricevere ciascuno che rispetta in conseguenza di quello che ha fatto quando era nel corpo sia di bene che di male passaggio questo importantissimo vorrei commentare anche facendo qualche riferimento all'originale latino anzitutto definiamo quindi quando un papa dice definiamo dall'alto della sua autorità questo perché impariamo a distinguere anche i pronunciamenti perché specialmente di questi tempi dove siamo in tempi di risonanze mediatiche d'accordo per cui viene dato risalto a qualunque cosa e mi avviso questo modo di procedere danneggia grandemente proprio la vita e il bene della chiesa perché non si distingue cioè quello che un papa dice ha valore autorevole quando si esprime questi termini quindi quindi quando si esprime nelle sedi proprie nelle forme proprie con il linguaggio proprio quindi di finimus quindi io sto definendo una verità di fede e lo posso fare in quanto ricevuto da nostro signore gesù cristo il compito di confermare i fratelli nella fede ed edificare la chiesa tu sei pietro su questa pietra ed edificherò la mia chiesa quindi sta definendo che cosa chi ci va all'inferno chiesa l'ha sempre insegnato le anime di coloro che muoiono in peccato mortale attuale attenzione attuale quindi non con solo peccato originale non si va all'inferno con solo peccato originale peccato mortale attuale quando è che si va all'inferno subito dopo la loro morte discendono all'inferno ad inferna descendo non agli inferi ad inferna quindi l'inferno dei dannati e che cosa succede lì cos'è un posto dove semplicemente non si vede dio oppure si viene annientati no ubi penis infernalibus cruciantur in latino il verbo cruciantur lo capiamo anche in italiano no cruciantur da cui crucis insomma no quindi penis infernalibus vengono cruciate si dovrebbe dire quindi tormentate in maniera terrificante penis infernalibus con pene infernali con supplizi infernali questo bisogna saperlo e attenzione questo dura per tutta l'eternità e al momento della risurrezione della carne quindi nel giudizio universale tutti compariranno e questa sorte abbraccerà anche i corpi dei dannati che non saranno corpi glorificati ma saranno corpi semplicemente che non possono essere soggetti alla morte ma che possono essere soggetti al dolore alla sofferenza molto più di quanto lo sono i corpi nostri sul pianeta terra altro testo è il concilio di firenze il famoso concilio che tentò per la seconda volta dopo quello di lyon l'unione con i greci cosiddetti quindi con la chiesa ortodossa d'oriente e si vese una dichiarazione comune allora nel 1351 nella bolla cantate domino e la bolla appunto dogmatica del concilio di firenze promulgata sotto l'autorità di papa eugenio 4 si legge la chiesa crede fermamente e annuncia che nessuno di quelli che sono fuori della chiesa cattolica sentite bene vorrei tanto vorrei tanto sapere in certi ambienti frasi di questo genere anche ecclesiali come li vogliamo interpretare oggi sentite bene cosa dice la chiesa crede fermamente e confessa e annuncia che nessuno di quelli che sono fuori della chiesa cattolica non sono i pagani ma anche i giudei o gli eretici o gli scismatici potranno raggiungere la vita eterna ma andranno nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli se prima della morte non saranno stati ad essa riuniti crede tanto importante all'unità del corpo della chiesa che solo a quelli che in essa perseverano i sacramenti della chiesa procureranno la salvezza e i digiuni, le altre opere di pietà e gli esercizi della milizia cristiana ottengono il premio eterno nessuno per quante le mosi ne abbia fatto e perfino se avesse versato il sangue per il nome di Cristo può essere salvo se non rimane nel gremio e nell'unità della chiesa cattolica questo è il concilio di Firenze è un concilio ecumenico il concilio ecumenico ci sono 21 non c'è soltanto l'ultimo di quelli che è stato fatto 21 e io vorrei tanto sentire da esperti di vario genere come certe cose che si vedono nel giro possono essere accordate con queste cose che abbiamo appena ascoltato scritte dentro un concilio dicendo attenzione con l'introduzione la chiesa crede fermamente confessa e annuncia un principio antichissimo non extra ecclesiam nulla salus ora è vero e questo è vero che si può appartenere alla chiesa solo con il cuore e non anche con il corpo vero ma questo riguarda coloro che non conoscono l'esistenza della chiesa la necessità di farne parte non hanno avuto l'annunzio del nome del Vangelo eccetera eccetera come si legge nella Lumen Gentium dell'ultimo concilio ecumenico ma qui vabbè in ogni caso quello che ci interessa a noi adesso a prescindere che è il ribadire l'esistenza del fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli poi andiamo a vedere un altro testo ancora che è il 1575 e che è densi che il 1575 che è una sezione una parte del concilio di Trento in particolare uno dei tanti canoni tanti canoni i canoni sono 33 del decreto sulla giustificazione che è quello che si oppose formalmente direttamente alle 95 tesi appese da Lutero nella cattedrale di Wittenberg il 31 ottobre guarda un po' del 1517 il 1575 dice se qualcuno afferma che in ogni opera buona il giusto pecca almeno venialmente o cosa ancora più intellettualabile mortalmente e quindi merita le pene eterne ma che non viene condannato solo perché Dio non gli imputa a dannazione quelle opere sia anatema e poi va bene qui praticamente il senso di questa frase è condannare una dottrina luterana la dottrina luterana diceva che le opere buone noi non possiamo compierle tu sei superbo se pensi di poter fare delle opere buone perché tu sei un peccatore quindi tu ti puoi sforzare quanto ti pare ma pure se fai un'opera buona almeno c'è un peccato veniale o addirittura ci può pure essere un peccato mortale questo dicevano perché che la teologia luterana peraltro a mio modestissimo avviso riecheggiante in qualche ambiente ecclesiale contemporaneo e manco poco afferma che l'uomo è proprio radicalmente peccatore non esiste una giustificazione reale quindi tu le opere buone non le puoi proprio fare ma quando invece la sana dottrina cattolica si è persegnato che la giustificazione è un fatto reale noi diventiamo veramente giusti è chiaro che rimaniamo peccatori anche su questo termine è come su quello della misericordia bisogna fare chiarezza perché ci sono un sacco di equivoci siamo tutti peccatori ma in che senso non noi non possiamo accettare la visione luterana noi siamo peccatori nel senso che le nostre opere buone che sono buone sono ordinariamente imperfette quindi che significa significa che sono macchiate dall'amor proprio dalla brama da apparire da un po' di superbia da non essere perfette nelle intenzioni non sono sempre perfettamente rivolte alla cosa di Dio e alla salvezza del prossimo ma questo non toglie che l'opera buona è opera buona e che bisogna comunque farla perché non è che se non riesca a fare un'opera perfetta non la faccio per niente ma questa è una stupidaggine grossa quanto una casa un'opera imperfetta non è un peccato veniale è un'opera imperfetta se il nostro signore dovesse guardare soltanto le opere perfettissime va bene guarda soltanto la madonna cioè amici non è che ci sta oppure i santi che sono già giunti ad un elevatissimo grado di perfezione ma questo è una minoranza assoluta quelli dicevano che addirittura si va all'inferno e non viene condannato solo perché Dio non gli imputa a dannazione quelle opere capite che indirettamente questo è il motivo per cui nel testo che sto seguendo è citato anche questo numero indirettamente si parla della dannazione eterna no? anche delle pene eterne dell'eternità delle pene qui stiamo nella sezione stiamo commentando il numero del Catechismo della Chiesa Cattolica che afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità quindi tutti quanti questi passaggi magisteriali ne sono una conferma no? perché qui si parla di pene eterne e dannazione allora Paolo VI questo nel credo del popolo di Dio che scrisse proprio in virtù del fatto che come poi si rese conto e disse pubblicamente l'ha detto lui non l'ho detto io dice qui abbiamo finito il concilio aspettavamo che fosse arrivata la primavera della Chiesa ma qua è arrivato l'inverno e qui se mi permette qualche piccola questo l'ha detto negli anni 70 noi sono passati in altri 50 a me tutta quanta questa grande primavera d'estate detto fra me e voi non mi sembra che sia tanto arrivata però si continua a camminare sempre sulle stesse frequenze sempre le stesse cose lo dico lo dico con sofferenza ma io dico mi chiedo quando uno ha dei problemi e escogita delle soluzioni e i problemi non solo che non si risolvono ma peggiorano ma non sarà il caso di farsi qualche domanda di dire vabbè ci abbiamo provato per carità ci abbiamo creduto pensavamo di fare bene nessuno lo mette in dubbio questo qui ma la terapia ha sortito l'effetto che speravo o vogliamo attapparci gli occhi davanti a quello che si vede tutti i santi giorni sotto gli occhi che ci abbiamo io non voglio fare come dire il disfattista o il criticone o o chissà che cosa ma a me non sembra affatto che la terapia abbia funzionato il primo è stato Paolo VI a correre ai ripari ma che bisogno c'è di scrivere un credo del popolo di Dio quando è da poco concluso una sise che ha prodotto una caterba di documenti di costituzione dove ne ha dette di ogni proprio al fine pastorale proprio al fine di 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 riformulare l'insegnamento evangelico in maniera adeguata al passo con i tempi eppure ha dovuto scrivere Gesù è salito al cielo verrà nuovamente nella gloria per giudicare i vivi e morti sto citando ciascuno secondo i propri meriti sicché andranno alla vita eterna coloro che hanno risposto all'amore e alla misericordia di Dio e andranno nel fuoco inestinguibile coloro che fino all'ultimo hanno posto il loro rifiuto questo questo è il credo di Paolo VI ora tornando al catechismo leggiamo gli ultimi numeri riguardanti l'inferno che sono il 1036 e il 1037 leggo proprio il testo le affermazioni della sacra scrittura gli insegnamenti della chiesa ok adesso abbiamo più o meno passato in rassegna riguardanti l'inferno sono un appello alla responsabilità dell'uomo con la quale devo usare la propria libertà sono un appello scusate alla responsabilità con la quale l'uomo devo usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno costituiscono allo stesso tempo un pressante appello alla conversione entrate per la porta stretta perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione dice Gesù nel Vangelo e molti sono quelli che entrano per essa quanto stretta invece la porta e angusta è la via che conduce alla vita e quanto pochi sono quelli che la trovano siccome non conosciamo né il giorno né l'ora bisogna come ci avvise il Signore che vegliamo assiduamente affinché finito l'unico corso della nostra vita terrena meritiamo con Lui di entrare al banchetto nuziale ed essere annoverati tra i beati né ci si comandi come asservi cattivi e pigri di andare al fuoco eterno nell'eterno e l'eterno e l'esterno dove si sarà pianto esterno e l'identi anche qui ci sono citazioni dei passi evangelici allora prima dico qualcosa su questo allora un appello alla responsabilità con la quale l'uomo deve usare la propria libertà in vista del proprio destino eterno allora noi non possiamo essere sciocchi dobbiamo essere responsabili cioè io dico sempre alle persone ragazzi cioè sul pianeta terra noi ci staremo a tempo determinato la morte è l'unico evento futuro è certo ma vuoi riflettere un po' vuoi portare il problema vuoi pensare un pochino tu lo capisci che hai 80 anni contro tutta l'eternità e lo capisci che se queste cose sono vere poco poco tu muori in stato di peccato mortale è la fine e da quella fine non c'è ritorno lo ascolti il Vangelo citato dal Catechismo la porta che conduce alla perdizione è larga la via è spaziosa e molti sono quelli che vi entrano per essa è stretta e angusta la via che conduce la vita e Gesù dice quanto pochi sono quelli che la trovano non mi ricordo se la volta scorsa proprio perché purtroppo oppure in qualche altra Catechesi che ho fatto questi giorni ho ricordato che mi è arrivata nei giorni scorsi proprio in post di un'anima santa che affermava ecco aver ricevuto come rivelazione privata non mi ricordo nei dettagli da Gesù che si salvano cento persone su mille quindi il dieci per cento questa percentuale è più stretta di quella che era comune ai tempi di Sant'Agostino in età patristica si parla di massa dei dannati cioè la convinzione diffusa un tempo era che la salvezza era un obiettivo in cui mi devo rimboccare le mani che si può raggiungere ma non lo posso dare per scontato perché un sacco di gente non lo raggiunge ma questo sta scritto nel Vangelo sta scritto lo dice Gesù nel brano citato Matteo 7 13 14 non lo dico io quando parla nostro Signore Gesù Cristo noi non possiamo fare orecchi da mercante oppure alzare le spallucce o sostituire quello che lo ha detto ma abbiamo dato Dio misericordioso ma scusa ma se tanto Dio misericordioso ma che l'ha detto a fare questa cosa Gesù nel Vangelo perché ci ammonisce in questo modo noi non possiamo dare per scontata l'eterna salvezza San Pietro scrive nelle sue lettere siate pieni di Gioia mentre conseguite la meta della vostra fede cioè la salvezza delle anime chi l'ha detto che tu raggiungerai la salvezza ma tu ne sai io non ne sono così sicuro per quanto mi riguarda faccio il possibile spero ci prego ma mantengo sempre alto il livello di guardia perché non è scontato l'esito non è scontato l'esito della vita terrena e non fa niente io sono battezzato per grazia di Dio cresimato per grazia di Dio e anche il suo ministro per grazia di Dio sono tutti quanti aiuti ma questo non è che mi garantisce che mi metta al sicuro dove sta scritta questa cosa qui? io vorrei tanto sapere dove sta scritta questa cosa qui in quale passo della Sacra Scrittura o di duemila anni di magistrato della Chiesa sta scritta una cosa del genere non da nessuna parte la troverete scritta la Chiesa come madre ha sempre raccomandato ai suoi figli di lavorare per la propria salvezza infondendogli certamente fiducia e speranza d'accordo? perché il nostro Signore Gesù Cristo è morto in croce per salvarci dalla dannazione ma non senza di noi e non presupponendo questa come cosa già acquisita prima ancora che si raggiunge quindi nel 1036 il Catechismo afferma la serietà della dottrina biblica e magisteriale sull'inferno e quindi un appello pressante alla responsabilità vivere da persone responsabili non possiamo avere come sconsiderati specialmente se siamo adulti e alla conversione la conversione si conclude certamente con una nota positiva numero 1 Dio non predestina nessuno ad andare all'inferno come diceva Giovanni Calvino nessuno per quanto riguarda Dio e la sua volontà intenzionale all'inferno non dovrebbe andarci nessuno attenzione dire questo però non vuol dire che non ci sta nessuno perché Dio non forza nessuno la nostra libertà è un fatto reale quindi la dannazione prosegue il testo del Catechismo è la conseguenza di una avversione volontaria a Dio che persiste fino alla fine nella liturgia oferistica e nelle preghiere quotidiane dei fedeli la Chiesa implora la misericordia di Dio il quale non vuole che alcuno oferisca ma che tutti abbiano modo di pentirsi e qui c'è un pezzo del canone romano la più bella preghiera oferistica che esiste perché è anche la più antica accetta con benevolenza il signore il famoso Hank Igitur l'offerta che ti presentiamo noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia disponi nella tua pace i nostri giorni salvaci dalla dannazione eterna c'è scritto così ok età eterna dannazione non servis e accoglici nel greggio degli eletti e tenentoro un iubio a sgregio numerari quindi ciò detto passiamo adesso a ripercorrere queste cose con l'analisi di San Tommaso da Quino quindi con alcune considerazioni sistematiche come possiamo chiamarle dove rielaboriamo alcuni dati che abbiamo acquisito dalla rassegna biblica in parte e dalla rassegna magisteriale anzitutto quali sono le pene dell'inferno le pene dell'inferno sono raggruppabili in due macro categorie si chiamano tecnicamente dobbiamo familiarizzarci con questo linguaggio la pena del danno e le pene del senso la pena del danno consiste nella perdita eterna della possibilità della visione beatifica che significa il fallimento dell'obiettivo per cui noi siamo stati creati la nostra felicità si compie solo nella visione beatifica e attenzione alla differenza che c'è tra la pena del danno dei dannati e il fatto che noi qui sulla terra ancora non lo vediamo Dio è che qui è semplicemente una privazione momentanea causata dal fatto che dalla la volontà di Dio ma anche dal fatto che su pianeta terra se anche Dio volesse farsi vedere nella condizione in cui stiamo adesso non potremmo vederlo d'accordo moriremo all'istante come si legge nella sacra scrittura nessuno può vedere Dio e rimanere vivo in questa vita gli uomini non si rendono conto di quello che si perdono vivendo lontano da Dio rischiando la dannazione di non vederlo più per tutta l'eternità ma attenzione il dannato va all'inferno dopo il giudizio particolare in cui Dio non si mostra evidentemente in ciò che è realmente ma come spiega Sant'Omaso stesso dà all'anima una percezione profondissima per quanto possa riceverlo del bene infinito che lui è e di quello che si è perso irreversibilmente ed irrevocabilmente quindi la sofferenza è enorme ed è la pena principale voi capite cosa significa per tutta l'eternità stare a pensare che io mi sono perso il bene più grande l'ho perso solo per colpa mia perché per quanto riguarda l'Altissimo lui non voleva affatto che io facessi questa fine l'ho persa sputando sopra tutte quante le sofferenze che il nostro Signore Gesù Cristo Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero umiliandosi e patendo inindicibilmente luce è sputata sopra le hai rese vane le hai calpestate e anticipiamo tra le pene del senso dove il loro verme non muore che cos'è il verme che non muore è proprio questo è il rimorso di coscienza perpetuo che affligge i dannati ma anche i demoni di aver perso Dio non non si perdonano non si danno pace per questo motivo e il rimorso dice è per colpa tua è per colpa tua è solo colpa tua è solo colpa tua è solo colpa tua ed è la verità che è solo colpa sua è solo colpa sua cioè il demone il demone e il dannato devono cioè si dicono la verità quando si dicono questo qui è solo colpa sua è vero una delle più grandi bestemmie che si possano pronunciare in assoluto è accusare Dio della della dannazione di di qualcuno anche attraverso l'argomento specioso della misericordia ma se Dio è misericordioso non può permettere che nessuno vada all'inferno Dio la libertà non la viola e non la violenta mai Lucifero è diventato Satana per un atto libero della sua volontà Dio lo ha ammonito di non farlo come ammonisce tutti quanti noi eh tutti gli uomini sono ammoniti di non fare il male ma i peccatori vanno ammoniti non vanno forzati vi ricordate Santa Bernardetta di Lourdes Dio mi ha detto di dirvelo non di farvelo credere io questo lo so bene io sono un povero prete no? cioè è chiaro che un povero prete come dire c'era proprio come come missione è come dovere grave quello di ammonire i peccatori ma se un peccatore non mi ascolta e non la pianta dico stiamo sotto le parole di Ezechiele io a te ti ho messo come sentinella per cui se tu vedi Lempio che commette qualcosa di male non glielo dici attenzione questo vale per le persone costituite in autorità perché per per i fedeli comuni ammoniti i peccatori ricordiamo che è un'opera di misericordia spirituale quindi non si è tenuti ma per chi è costituito in autorità io sono tenuto a dirgli a una persona tu stai peccando mortalmente se non mi crede o mi manda a quel paese o si imbestia liscia perché glielo ho detto questo è un problema suo ma io glielo devo dire perché altrimenti non solo che quello si danna ma io non mi si danno appresso perché il nostro signore dice se tu non lo ammonisci lui andrà nella morte ma della sua morte io chiederò conto a te quindi questa è la pena del danno e cosa sono le pene del senso sono due il fuoco e tutte le altre pene accessorie con cui sono afflitti sia i demoni che le anime dannate e dopo l'esurrezione anche i corpi dei dannati la pena principale dell'inferno è il fuoco eterno la pena del senso un fuoco vero sottolinea San Tommaso pensiamo alla visione dei pastorelli di Fatima che vedevano le fiamme dell'inferno in cui entravano gli esseri umani in forma umana e non uscivano come mostri e poi c'erano dei mostri che nuotavano dentro quelle fiamme particolarmente terrificanti e i mostri particolarmente terrificanti sono i demoni il mostro la deformazione in peggio causata dalla perversione della volontà del capolavoro creativo dell'altissimo però immaginate cosa significa stare in mezzo a delle creature ininterrottamente mostruose guardate questi non sono i film fantasy d'accordo non è Tolkien d'accordo non è un film non è il signore degli anelli dove siedono gli orchi gli urucai insomma tutti terrificanti ma tanto è un film no no quello non è un film non è un fantasy è un reality se vogliamo utilizzare le categorie care al mondo dello spettacolo odierno questa pena del fuoco fa patire voi immaginate cosa significa se uno ti potesse mettere dentro le fiamme insomma e tu se uno viene messo dentro le fiamme adesso viene bruciato vivo dopo un po' more no le fiamme ti bruciano e ti danno lo stesso tormento anzi peggio che se tu stessi dentro le fiamme e non mori te lo tieni senza poterti sollevare San Tommaso nota che all'inferno però insieme al fuoco c'è anche l'opposto che è il freddo il gelo raccontano alcuni esorcisti in alcuni casi di 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 possessione il gelo il freddo atroce no si vede anche per esempio nella in quel film diciamo che è molto caricato che è l'esorcista di William Fredlin no quando a un certo punto quella la stanza diventa congelata insomma c'è quel freddo boia dentro la la stanza perché il gelo violentissimo dell'inferno che si alterna con la fiamma ardentissima che brucia senza consumare sono i due opposti immaginate se uno ti mettesse nudo l'hanno fatto questo tormento da alcuni martiri e li hanno seppelliti praticamente li hanno seppelliti nudi dentro la neve e li hanno fatti morire di freddo assiderati pensate che bella allegria che bella alternanza tra il morirsi di freddo e il bruciare dentro il fuoco del verme ne abbiamo già parlato il rimorso perpetuo di coscienza poi c'è pianto estritore di denti abbiamo sentito dire pianto estritore di denti espressioni che indicano la disperazione gli urli avete mai visto i pianti disperati quelli che non si dovrebbero mai vedere tra i figli di Dio tipo a certi funerali insomma che le persone si disperano di un male ineluttabile e incambiabile quindi dando anche inescanescenze come dire rilevanti pianto estritore di denti unitamente al terrore di essere eternamente destinati a tale stato senza poterne uscire poi ci sono le tenebre sappiamo che l'inferno è un luogo tenebroso è un buio ma fitto ma che così fitto che si taglia col coltello però un buio che non impedisce di vedere cosa però solo quelle cose brutte e terrificanti capaci di affliggere il cuore primo fra tutti la vista dei demoni e degli altri dannati finito no perché ci manca tutto quello che ci ha raccontato il buon Dante Alighieri le pene dei sensi ogni peccato è inoltre punito con una pena uguale e contraria in ragione del tipo di peccato commesso e della sua gravità e su questo per avere un'idea basta rileggersi l'inferno di Dante Alighieri il cosiddetto contrapasso guardate che chi irride queste cose adesso siamo nel mese di novembre alle soglie dell'avvento la quaresima è lontana no ma le tre opere penitenziali che la Chiesa ha sempre proposto ai fedeli da praticare sempre ma in quaresima con maggiore intensità che sono la preghiera l'elemosina e il digiuno se uno ci pensa sono il contrario quindi la la riparazione dei primi tre vizi capitali perché il superbo è quello che pensa di poter fare a meno di Dio quindi non prega mai vive senza Dio no? non prega mai che preghiera che prega fa? i sacramenti e a che me servono? che me devo confessare a fare? che ci danno a fare a messa? che me devo fare a comunione? che ci faccio? l'elemosina è contrario dell'avarizia no? quindi dell'accumulo di beni e il digiuno che nel digiuno ci diventano tutte le mortificazioni corporali di che cosa è contrario? non solo della gola ma anche della lussuria no? digiuno e mortificazioni corporali queste cose sono attestate in letteratura quante ne vogliamo? poi le vedremo se vogliamo fare qualche piccolo riferimento anche devozionale con chi c'è stato all'inferno ripeto soprattutto Santa Faustina San Tommaso apre poi una parentesi le pene dell'inferno hanno due dimensioni una che è uguale per tutti che è la durata quanto durano? sia la pena del danno che la pena del senso sono eterne e non ci penseremo mai abbastanza l'ho detto nelle catechesi precedenti lo ripeto tutti i maestri di spirito hanno fatto fare per secoli la meditazione sull'inferno ci devi pensare capito? ci devi prima che sia troppo tardi ma tu capisci che significa una pena eterna un cumulo di pene eterne che non finiscono mai queste non finiscono mai chi è stato male e poverino chi per esempio è stato afflitto da un brutto male che cosa che cosa si pensa in continuazione quando uno sta male a quando si guarisce o no e sappiamo bene che se non si guarisce a quando c'è un termine ai mali no? perché o si guarisce o alla fine si muore quindi morendo si cessa di soffrire giusto? perché la morte sicuramente cessa di farmi soffrire quelle pene che soffrivo prima se muoio di tumore certamente non soffrirò più per le pene legate al tumore quindi in ogni caso quello che voglio dire è che in questo mondo le esperienze più brutte e più dolorose c'hanno sempre come dire un un que un che disopportabile perché? perché guardo a quando finiranno presto o tardi finiranno al massimo che succede moro ma finiranno voi capite quando questa cosa non c'è non finiranno ma centomiliardi di anni no no non finiranno più voi capite cosa significa ma insisto capiamo che significa una vita che non finisce ma dico ma come si fa ad essere così sciagurati a rischiare una cosa del genere senza neanche pensarci oppure a fare spallucce dovreste vedere certi commenti ai video che chiaramente sono moderati dal team degli amministratori ancora queste cose avete terrorizzato la gente voi preti con l'inferno per tanti secoli adesso finalmente siamo tutti quanti liberi pensate pedofili d'accordo questi sono i commenti che girano a me non me ne importa assolutamente nulla perché cioè non è che mi dispiace di ricevere un commento dal genere se queste cose possono aiutare anche soltanto un'anima una non ho nessuna pretesa di successi e di popolarità una che sentendo queste cose riflette un po' e si rimette in grazia di Dio e si prende semplicemente cura del bene della propria anima non perché è terrorizzata ma perché è semplicemente resa edotta consapevolizzata ok quindi resa consapevole stop e quindi comincia a lavorare un pochino per la propria salvezza e santificazione ma a me basta ma basta soprattutto i commenti che vogliono possono di tutte le parolacce che vogliono o gli insulti e le offese che vogliono io non ho paura di dire queste cose qui perché queste sono cose che la chiesa ha sempre insegnato le insegna ancora e le insegnerà sempre non c'è teologo non c'è dottrina non c'è aggiornamento niente di niente che può cambiare queste cose nessuno lo può fare non c'è non c'è autorità sulla terra neanche tra tutti quanti i membri della gerarchia della chiesa di ogni grado che possa toccare queste cose d'accordo perché queste sono cose rivelate e definite cioè anche un papa non può intervenire su una verità che sia definita quando c'è una definizione dogmatica per esempio fatta da un pontefice quel pontefice lega le mani per quanto riguarda quella definizione dogmatica a tutti i suoi successori perché nessuno potrà contraddirlo nessuno e chi lo facesse farebbe aria fritta d'accordo aria fritta la chiesa funziona così la costituzione divina della chiesa funziona così il nostro signore le ha blindate alcune cose invece per quanto riguarda per quanto riguarda l'intensità delle pene dell'inferno questa non è uguale per tutti ma varia a seconda del genere della gravità e del numero di peccati commessi attenzione che questo vale per l'inferno ma questo vale anche per il purgatorio quando parleremo del purgatorio e questo comunque vale anche per l'inferno bisogna prendere coscienza di una cosa specialmente per chi è abituato in certi vizi e si pensa che vabbè ogni tanto mi concedo qualche licenza tanto poi mi vado a confessare finito no? faccio la comunione è finito tu sei sicuro che è finito? sì per carità a meno che uno stia prendendo in giro il nostro Signore Gesù Cristo perché poi i casi di recidiva nel peccato a detta di tutti quanti i grandi maestri di spirito in primis Sant'Alfonso devono essere sempre fortemente attenzionati dal confessore perché un abituato nel peccato che non dà segni di pentimento alcuno deve essere in primis ammonito dicendo che vogliamo fare? che cosa vogliamo fare? vuoi prendere in giro il Padre Eterno? Dio non si ride amici miei Dio è un oceano di bontà di amore di compassione verso un povero peccatore che è sinceramente pentito lo abbraccia e lo avvolge come il più tenero dei padri fa festa per lui come dice Gesù nel Vangelo ma nel Vangelo c'è pure scritto che chi stava senza l'abito nuziale e tu che stai a fare qui? fuori da qui chi ti ha chiamato qua dentro? come ti permetti di venire qui dentro senza l'abito nuziale? noi non possiamo prendere come gli eretici airesis in greco viene da un verbo che significa fare una scelta prendere una parte noi non possiamo prendere soltanto quello che ci fa comodo quello che ci piace di più un peccatore impenitente va ammonito poi va riammonito poi riva ammonito ma Santa Alfonso Maria degli Liguori che è il patrono dei confessori e dei monaristi e si legga la pratica del confessore raccomanda al confessore a un certo punto quantomeno di differire la soluzione di non darla subito dice va bene fa così 15 giorni di vita buona su questo peccato e poi non è che non ti assolvo la differiamo perché tu in questi 15 giorni devi dare la dimostrazione al nostro Signore che quantomeno c'è voglia di combattere contro il peccato perché altrimenti si corre il rischio di andare di sacrilegio in sacrilegio perché la confessione senza pentimento è sacrilega è nulla e la comunione che uno ci fa sopra è sacrilega allora l'intensità varia cioè se tu accumuli peccato su peccato tu puoi fare se hai pentito va bene c'è il perdono e l'espiazione? altro tema che oggi è l'espiazione? tu pensi che fai l'atto impuro che ne so fai l'atto impuro solitario che sarà uno in più uno in meno e l'espiazione? non c'è espiazione secondo te? per carità le opinioni di tutti vanno sempre rispettate ma la Chiesa non ha mai insegnato questo i Santi non hanno mai insegnato questo si leggano le vite dei Santi si vedano le opere dei Santi le penitenze che facevano i Santi e non solo per sé ma per tutti quelli che peccano mortalmente in continuazione e penitenza non la fanno mai per risparmiargli un pochino di guai si vada a leggere prego chi vuole informarsi e non fare i discorsi aria fritta le fuffe d'accordo? e non si pensi che per duemila anni i membri della Chiesa sono stati una congrega di imbecilli di deficienti mi si perdoni se mi infervono un po' che poverini sti cretini credevano a tutte quante queste cose qui non credevano mai non credevano alla misericordia di Dio non credevano che credevi che gli fa penitenza a fare che l'ha già fatta nostro Signore che ti ma anzi offendi Dio se ti metti a fare mi è stato detto da da qualcuno che qualcun altro nelle vesti di Sacro Ministro avrebbe detto dice ma padre io vorrei fare qualche digiuno vorrei fare qualche penitenza ma cosa vuoi fare tu? ah ma tu pecchi ma che non ti basta quello che ha fatto nostro Signore chi ti credi di essere che ti metti a fare penitenza tu? e quel poveraccio dice ah vabbè se mi dici così pazienza tutto tutto bene? tutto tranquillo? peccato che quello che ha detto speriamo sperando che non l'ha detto io quando mi raccontano certe cose spero sempre che ci sia stato qualche fraintendimento si sia capito male speriamo ma se poco poco una cosa di questo genere fosse successa questo disgraziato che è oggettivamente insomma un come dire uno che concorre alla perdita delle anime quindi l'epiteto adeguato non spetta a me darlo spetterà poi al nostro Signore ma è uno che sta concorrendo alla perdita di un'anima essendo invece stato costituito da nostro Signore per aiutarlo a raggiungere la salvezza non a perdersi ad essere istruito non ad essere deformato ad essere come dire rassicurato nella vita del bene non ad essere confuso e attenzione che la misericordia di Dio per chi gli piace tanto sempre ricorrere a questo tema raggiunge l'inferno perché non permette ai demoni di tormentare i dannati con queste pene che sono terrificanti più di quanto il peccatore se lo sia meritato perché se dipendesse dai demoni cioè se a tuoi demoni gli lasci carta bianca il demonio carta bianca da Dio non ce l'ha mai voi immaginate se i demoni c'essero carta bianca qui alla sapete quanto potere hanno i demoni perché adesso ce ne hanno così tanto carta bianca a Dio non gliela dà assolutamente anzi hanno carta nera per acquisire il potere il demonio lo deve conquistare e sapete come come lo conquista attraverso gli atti di libera volontà che fanno le creature sapete cosa che dà potere al demonio no? il peccato ogni peccato mortale che uno commette è un passaggio dalla parte sua chiedete agli esorcisti chiedete io ne ho conosciuti tanti per il demonio il mondo è diviso in due categorie di persone quello è mio 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 e invece quello non è mio quello fa una vita cristiana però me lo devo conquistare e come lo conquista? ah non ci vuole niente basta che gli fa fare un peccato mortale conquistato certo lui sa che poi lo può perdere perché se quello si pente si va a confessare sinceramente pentito e ritorna al Signore l'anima persa si ricordi che il potere del demonio e dei demoni sulla terra è proporzionato a quello che noi gli diamo né più né meno e questo vale anche per l'esistenza personale cosa disse Gesù prima della passione scusate viene il principe di questo mondo egli non ha nessun potere su di me attenzione non ha nessun potere su di me non in quanto Dio perché te credo che non c'è nessun potere su di me in quanto Dio non c'è nessun potere su di me in quanto uomo la redenzione è stata possibile proprio per la prevaricazione che ha fatto il demonio perché Gesù non poteva essere oggetto come è stato degli strali e della violenza furibonda del diavolo perché non lo meritava perché non aveva commesso nessun peccato ne ho parlato in altre catechesi adesso non voglio mettere troppa carne al fuoco la redenzione si fonda proprio su questo caposaldo perché noi siamo stati redenti semplicemente per un motivo perché Gesù ha voluto ha permesso ingannandolo tra l'altro facendolo cadere in trappola al diavolo di scaricargli contro tutte le pene possibili e immaginabili non potendo farlo perché Gesù era innocente quindi il demonio ha prevaricato e per quella prevaricazione tutte le prevaricazioni degli esseri umani che prevaricano contro Dio peccando se invocano il nome di Gesù sono salvi guardate che facilissimo ma per redimerci attraverso cosa è dovuto passare il nostro nostro signore le pene dell'inferno senza stare all'inferno si pensi bene alla passione a altra meditazione che oggi è andata fuori moda noi dobbiamo pensarci a quanto ha sofferto il nostro signore per noi dobbiamo pensarci e chiederci tutto questo e perché quello è quello che ti toccherebbe a te e a me e guai a me e a te se non sei fermamente convinto che ti toccherebbe patire tutto quello che ha patito il nostro signore molto di più per quello che hai fatto e se questo non accadrà devi solo che stare in ginocchio per tutta l'eternità davanti all'altissimo non a presumere la misericordia come una cosa perché la misericordia è costata una vita di tribolazione di sofferenza al nostro signore è costato di morire del peggiore dei cani abbandonato da tutti tra pene inaudite chiunque minimizza queste cose la realtà dell'inferno il suo pericolo indirettamente sta minimizzando l'opera del Redentore Gesù non è venuto sulla terra a giocare o a scherzare per risparmiarci tutta questa monnezza che abbiamo cercato di discorrere e non abbiamo finito ancora ci sono venute delle sofferenze le pene la morte atroce del figlio di Dio fatto uomo poi andassero a scrivere pure nei commenti che questo è il terrorismo e tutte queste cose qui poi quando sono morti lo vedranno se questo era il terrorismo il mio compito è dirlo senza nessuna paura di di beccarmi gli epiteti ci sono ampiamente abituato quindi però chiedo scusa se il cuore si lascia un pochino trascinare perché ci sono due cose che sono nel cuore di un sacerdote primo il dolore perché quello che ha fatto il nostro Signore non può essere disprezzato e messo sotto i piedi e secondo anche come dire la preoccupazione perché un sacerdote dovrebbe partecipare un pochino insomma dei sentimenti del cuore di nostro Signore Gesù Cristo che tantus labor non si è cassus si regge nel Dio e Sire tanta fatica non si è resa vana e per molti purtroppo lo è ovviamente con l'augurio che non accada a nessuno e non accadrà se permaniamo nell'amicizia del Signore di quelli che hanno avuto la la pazienza di ascoltare questa carichesia fino alla fine bene ci vediamo ci aggiorniamo per la prossima puntata per chi lo desidera a chi ha seguito la diretta auguro una santa notte a tutti la mia benedizione che Dio vi benedica tutti e sempre la Madonna vi protegga a chi ha seguito a chi ha seguito la mia benedizione